Sono l'ironia e i social, gli strumenti per trasmettere messaggi di educazione ambientale e per conquistare le nuove generazioni utilizzate dalla campagna di sensibilizzazione Aliga Show, realizzata dal gruppo di Sassari di Lega Ambiente e degli Ecovolontari. Da ieri sera è online sulle pagine Facebook dei promotori il primo dei tre video ideati per indurre a riflettere, ma senza pressioni, su argomenti fondamentali come la gestione dei rifiuti e la prevenzione dell'inquinamento. Protagonisti delle clip sono gli attori Daniele Monachella e Carlo Valle, che prestano voce, volto e simpatia ai messaggi da lanciare. Tre i macro temi proposti, la gestione dell'umito domestico nell'agro e nell'urbano, il comune di Sassari è l'unico in Sardegna ad aver istituito l'obbligo di compostaggio domestico nell'agro, l'abbandono indiscriminato delle mascherine protettive e quello delle cicche di sigaretta, entrambe pratiche fortemente impattanti che incidono negativamente sui prodotti della catena alimentare, dato che un'altissima percentuale inquina suolo, mare e fiumi. L'iniziativa, come altre organizzate da Lega Ambiente ed Ecovolontari, in questo caso supportati anche dal corpo forestale, si propone di avere un approccio ludico al rispetto e alla sostenibilità. E i social network sono un canale preferenziale per attrarre un'enorme platea di ragazzi, non solo della città ma di tutta l'isola.